Ho l'impressione che sia fatto piccola Hai un canale di qualche minuto? Ancora noi? No, sto facendo un filmato No, poi la metta su No, no, no Vai mandaglielo al... Con la... su internet Avevi bisogno delle feste Avevi bisogno Ma come si lascia fare? E' uguale, andiamo che ci abbiamo a casa una bambina che ci aspetta Vieni Opa Grazie